va bene direi che possiamo partire buongiorno a tutti oggi direi che dovremmo riuscire a concludere il blocco di python funzionale quindi vedremo gli ultimi ingredienti che ci rimangono sulle slide faremo come al solito degli esercizi insieme la prossima volta vediamo la parte ricorsiva quindi come affrontare la ricorsione in python e l'ultima lezione quindi tra due giovedì faremo una simulazione d'esame insieme così avrete tutti gli ingredienti per fare un buon esame quindi nell'ultima lezione le prime due ore le dedicheremo le dedicherete voi a risolvere una prova d'esame faremo proprio finta di essere all'esame e nel restante tempo la risolveremo insieme questa simulazione domande su quello che abbiamo fatto la volta scorsa erano tutti concetti penso nuovi quindi magari ci va un po' di tempo per entrare nell'ottica di questo tipo di programmazione ma vedrete che facendo esercizi dovreste riuscire a entrare in questa ottica prima di partire con i nuovi ingredienti volevo quantomeno vedere insieme a voi due esercizi dell'ultimo laboratorio ho già messo le soluzioni sul sito però magari facendo insieme alcuni esercizi riusciamo a capirli meglio partirei dal secondo che era un po' scritto in modo criptico ma in realtà poi è più facile a farsi che a dirsi si voleva scrivere un programma per trovare tutti i numeri da 1 a 100 che sono divisibili da almeno una cifra tra 2 e 9 almeno una l'esempio è che arriva meglio la consegna il 3 soddisfava la condizione perché il 3 è divisibile per 3 per se stesso che è un numero tra 2 e 9 l'11 invece non soddisfa la condizione perché è divisibile solo per 1 e per se stesso quindi non è divisibile da nessuna cifra tra 2 e 9 il 4 ad esempio soddisfa invece la condizione anche come il 3 perché è divisibile per 1 ma poi per 2 e per 4 quindi addirittura è divisibile per due cifre tra 2 e 9 si chiedeva di provare a risolvere il programma prima con la versione imperativa e poi in modo più funzionale allora partiamo dalla versione più interativa imperativa scusate mi creo un nuovo progetto in REPL lezione 4 vediamo se funziona ok allora come posso procedere secondo voi qui come in altri esercizi fatti la volta scorsa devo costruire un qualcosa mano a mano e quindi l'idea potrebbe essere di avere una lista vuota che poi vado a riempire aggiungendo un numero per volta numeri che rispettino le condizioni che mi servono quindi ad esempio mi definisco una lista numbers che inizialmente è vuota poi devo analizzare tutti i numeri da 1 a 100 ok quindi mi servirà banalmente un ciclo for per analizzare uno per volta questi questi numeri ok for n in come faccio a generare i numeri da 1 a 100 range ok start and perfetto da 1 a 101 quindi start inclusivo end esclusivo quindi ci fermiamo a 100 perfetto adesso per ognuno di questi numeri devo controllare se è divisibile da almeno un numero tra 2 e 9 quindi dovrò avere un altro un altro ciclo for per controllare i numeri tra 2 e 9 se ne trovo 1 quel numero lì mi va bene ok for chiamiamolo di divisore in range di nuovo 2 10 in questo caso ok ho n che è il mio numero da 1 a 100 che devo controllare ogni volta ho il d che è il divisore tra 2 e 9 come faccio a capire se n è divisibile per d vabbè dovrebbe essere chiaro questo punto con l'operatore quando è che sono divisibili questi numeri quando è che n è divisibile per d esatto quando il resto della divisione è uguale a 0 quindi posso usare l'operatore modulo quindi if n per 100 d uguale uguale a 0 questo vuol dire che n mi va bene perché è divisibile per d e quindi va bene perché d è un numero tra 2 e 9 ok lo aggiungo a numbers numbers punto append n se io adesso provo a stampare i miei numeri magari potete già immaginare quale sia il problema qual è il problema qual è il problema esatto che certi numeri li prendiamo più volte perché li prendiamo più volte vi ho fatto l'esempio prima del 4 il 4 è divisibile sia per 2 che per 4 no e quindi entrerà due volte in questa if questa if sarà verificata due volte e quindi farò due append dello stesso numero e capita poi anche per altri numeri quindi che opzioni abbiamo in questo caso ne abbiamo diverse vediamo se riuscite a identificarne almeno due si può controllare che non sia già nella lista ok la vostra compagna suggerisce di controllare che l'elemento non sia già nella lista quindi con una if qui prima di fare l'append immagino mi chiedo if direi not n in numbers allargo un attimo allora appendo e questo ok perfetto si certo si può anche mettere in end queste due if cambia niente risparmieremo una riga di codice quindi vado avanti controllo se non c'è ancora lo aggiungo prima soluzione alternative o usando un set perfetto al posto di una lista uso un set che di natura non permette di avere elementi duplicati quindi se io questa struttura dati al posto di una lista la definisco come un set vuoto ok dovrò anche cambiare l'append diventa una add per definizione numbers non può contenere elementi duplicati quindi semplicemente se proviamo ad aggiungere due elementi uguali non viene aggiunto la seconda volta lo stesso elemento vedete il set per definizione come struttura dati come in matematica non può contenere elementi duplicati a differenza di una lista che invece li può contenere quindi in un set se provo ad aggiungere 4 e il 4 non c'è ancora viene aggiunto se provo di nuovo ad aggiungere un altro 4 non viene più aggiunto perché c'è già e il set proprio per definizione non contiene elementi duplicati volessimo tornare a una lista uso la funzione list ok con la funzione list ritraduco il set che mi sono costruito in una lista e questa è un'altra possibilità ce n'è ancora un'altra che forse è quella che ci fa risparmiare più tempo di computazione anche se con questi numeri non ce ne accorgiamo torniamo alla versione con le liste quale potrebbe essere io dico che mi basta almeno un numero tra 2 e 9 quindi me ne basta uno solo esatto se entro in questa if vuol dire che ne ho trovato almeno uno posso evitare di controllare i numeri che vengono dopo tra 2 e 9 perché mi vanno mi va già bene l'n l'ho aggiunto ok sono a posto questo forse è il modo che ci evita di eseguire delle linee di codice inutili mentre negli altri due comunque arrivavo fino in fondo arrivavo comunque a controllare anche il 9 ok questa era la versione imperativa che a noi va bene ma fino a un certo punto dobbiamo cercare di tradurre questo nella versione più funzionale possibile particolare con una list comprehension cercare di fare tutto in una riga sola ok come faccio avrò sempre numbers uguale poi le mie due parentesi quadre e qui all'interno delle parentesi una bella list comprehension qualcuno ci è riuscito? allora come abbiamo visto la volta scorsa magari mi lascio anche la versione qua come abbiamo visto mi sembra in un esempio della volta scorsa anche nelle list comprehension possiamo avere dei cicli for annidati qui abbiamo in effetti due cicli for uno annidato dentro l'altro perché per ognuno di questi n dobbiamo controllare d da 2 a 9 e va bene quindi possiamo replicare questi due cicli for uno di fila all'altro avremo prima il ciclo for su n for n in range di 1 101 for d in range 2 10 vado a capo ma dovrebbe capirsi che cos'è che voglio prendere qui per mettere nella lista beh tra n e d sicuramente n no? quindi prendo n per ogni n tra 1 e 100 poi ho il ciclo for annidato quando è che prendo n solo se n per cento di uguale uguale a 0 giusto? vediamo un po' si qua ero tornato ma questo possiamo cancellarlo tanto non ci serve più print numbers ovviamente anche qui c'è lo stesso problema di prima no? perché abbiamo una lista una list comprehension abbiamo due cicli for annidati e anche qui questo ciclo for da 2 a 9 lo facciamo sempre tutto e quindi per quei numeri che sono divisibili da più di un divisore li prendiamo più volte qual è il problema aggiuntivo qua? è che siamo un po' limitati nel senso che non riusciamo a mettere un break qua dentro e quindi per forza di cose dovremmo passare da da un set no? quindi io mi costruisco la lista che ha dei duplicati se voglio i numeri univoci trasformo questa lista in un set ok? quindi con la funzione di conversione set a cui passa una lista in automatico i duplicati vengono collassati in un unico elemento poi adesso ho stampato un set se voglio ritornare a una lista beh nulla mi vieta di applicare in cascata la funzione list quindi avrò ops una lista che viene trasformata in un set che viene ritrasformata in una lista perfettamente lecito ok? questa era una soluzione online ve ne ho lasciata una un po' più cervellotica che permette di evitarci la conversione a set cioè c'è un modo per fare tutto in una list comprehension senza prendere i duplicati a qualcuno viene in mente è anche un modo per farvi vedere una caratteristica in più delle list comprehension ovviamente possiamo anche avere delle list comprehension innestate in una list comprehension quindi qui l'idea potrebbe essere questa prendo un numero tra 1 e 100 prendo tutti i possibili divisori tra 2 e 9 e provo a fare la divisione le faccio tutte però mi salvo da qualche parte in una lista se se il mio numero che sto analizzando è divisibile per quel divisore in sostanza mi costruisco una lista di vero falso tra due di lunghezza 8 tra 2 e 9 o quant'è ora mi sto perdendo in cui ogni casella ci dice se quel numero n che sto analizzando è divisibile per quel dato divisore quindi banalmente per il numero 4 costruisco una lista che mi dirà ok vero falso vero perché il 4 è divisibile per 2 non per 3 ed è divisibile per 4 e qual è il trucco qui? è che se c'è anche solo un vero all'interno di questa lista io posso prendere n quindi in sostanza che cosa faccio? avrò sempre il mio ciclo for esterno poi all'interno della stessa list comprehension mi costruisco un'altra lista con un'altra list comprehension in cui dico metto vero per ogni x anzi torniamo all'esempio di prima per ogni d in range di 2 e 10 if n per 100 d uguale uguale a 0 ok quindi questa è la lista di appoggio dove per ogni numero n inserisco vero se n è divisibile per quel dato divisore e qual è qui il trucco? il trucco è dire ok prendo n per ogni n in range 1 101 if true in quella lista lì cosa vuol dire questo? vuol dire che se c'è almeno un vero in questa lista qui che ho costruito al volo questo n va bene se siamo nel caso dell'11 questa lista sarà composta solo da valori falsi e quindi non prenderò l'11 questo è un modo un po' cervellotico per costruire direttamente una lista senza duplicati dobbiamo spezzare il problema in due quindi prima ci calcoliamo da qualche parte il risultato delle nostre divisioni e poi vediamo se quel risultato per quel numero ci va bene o no ci va bene se c'è anche almeno se c'è almeno un vero anche solo uno ma la versione di prima andava benissimo non è che sicuramente ripeto la più efficiente la versione più efficiente è sempre quella di prima fatta col break perché è l'unica che ci permette di uscire prima dal ciclo e di non controllare delle cose inutili mentre anche in questo caso comunque questa lista la costruiamo sempre tutta e quindi potenzialmente facciamo delle computazioni in più che non servirebbero domande? vediamo vediamo rapidamente invece l'ultimo esercizio che era forse il più complicato che era invece sui generatori si chiedeva di costruire un generatore capace di calcolare la running average di una sequenza di numeri arbitrariamente lunga l'abbiamo visto la volta scorsa che cos'è una running average vuol dire mandare un dato per volta a questo generatore e calcolare la media fino a quel momento quindi gli mando il primo numero la media sarà data dal numero stesso gli mando il secondo numero la media sarà la media tra i due numeri e così via ogni volta incrementiamo di di un pezzo allora come facciamo beh dobbiamo definirci un generatore visto che dobbiamo fare cose abbastanza complicate tra cui mandare dei dati dinamicamente al generatore sicuramente non possiamo crearlo con una comprehension ma dobbiamo avere una funzione che ci crei il nostro generatore quindi definiamo una funzione running average chiamiamola anche solo running che dovrà ricevere un dato per volta e sputare fuori la media ogni volta allora per calcolare la media ci servono un po' di cose ci serve sicuramente sapere il totale su cui fare la media quindi la somma degli elementi della sequenza fino a quel momento e quindi possiamo pensare di avere una variabile totale che inizialmente ovviamente parte da zero non abbiamo ancora mandato nessun elemento siamo a zero poi per fare la media dovremmo dividere questo totale per il numero di elementi giusto? e quindi possiamo anche qui avere una variabile counter che invece ci tiene traccia del numero di elementi anche questa parte ovviamente da zero poi avremo un average che sarà dato da totale fratto counter ovviamente se facciamo così andiamo un po' incontro dei problemi almeno la prima volta perché totale e counter sono a zero quindi stiamo cercando di fare una divisione per zero e questo sarebbe un problema quindi la nostra media potremmo definirla associandogli per il momento l'assenza di valore non abbiamo ancora ricevuto nessun elemento quindi per noi average non contiene nulla e non facciamo total fratto counter perché altrimenti avremo un problema di divisione per zero adesso questo generatore deve funzionare e mentre funziona deve ricevere dei dati quindi potrebbe essere un generatore infinito no? io vado avanti e quando ricevo un dato aggiungo il mio dato ai valori che ho già considerato e ti do la nuova media e poi rimango lì di nuovo in ascolto while true allora qui in qualche modo supponiamo di poter già ricevere il nostro dato di avere una variabile nuovo dato che ci viene passata dall'esterno allora che cosa dovremmo fare in questo caso beh dovremmo incrementare il totale ripeto supponiamo di avere una variabile che contenga il nuovo termine non basta incrementare il totale abbiamo ricevuto un nuovo dato quindi dobbiamo incrementare anche il counter più uguale 1 giusto e poi e poi si che adesso possiamo fare average la nuova media uguale total fratto counter giusto allora qui però dobbiamo cercare dobbiamo ancora fare due cose uno ricevere il termine dall'esterno e due ritornare la nuova media per come è definito un generatore l'abbiamo visto la scorsa volta il punto in cui si riceve il dato e si ritorna all'esterno il nostro risultato è lo stesso se vi ricordate ritorniamo un dato all'esterno con la parolina chiave yield che è quella retorno speciale che ci permette di bloccare l'esecuzione del programma in quel punto e ricordarci poi le interazioni passate quindi torniamo il dato che la prima volta sarà non ci blocchiamo lì e per però ci blocchiamo lì in attesa di un possibile altro dato che viene salvato in una variabile a piacere termine quindi qual è come funziona questo programma la prima volta che viene chiamato questo generatore viene chiamata una chiamata di inizializzazione chiamo il mio generatore e imposto le mie variabili quindi totale 0 count 0 average none entro nel ciclo ritorno none in questo caso perché era una chiamata di inizializzazione e rimango fermo lì in attesa ok la prossima volta che verrò sbloccato si spera con una send quindi con un dato associato io mi sbloccherò prenderò il dato che mi è stato passato e lo metterò qui dentro termine in modo tale da poter fare total che adesso vale 0 più il termine incremento il counter calcolo la nuova media e lo ritorno ribloccandomi lì in attesa di un'altra send ok questo vi fa anche capire che di solito i generatori definiti in questo modo a cui vengono passati dei dati non possono essere sbloccati subito con una send perché se sbloccassi subito questo generatore con una send mi perderei il primo dato giusto? perché non riuscirei a prenderlo ci sarebbe questa return diciamo così ma non riuscirei a prendermi il valore quindi quando usiamo la send dobbiamo prima creare il generatore chiamare una prima next in questo caso che inizializza il generatore e lo fa fermare nel punto giusto in attesa dei dati quindi supponiamo di avere una lista di numeri su cui vogliamo calcolare la running average allora mi creo il il generatore gen uguale running chiamo una prima next quindi inizializzo il generatore quindi next di gen e da qui in avanti io so che il mio generatore fermo lì posso iniziare a mandare dei numeri e quindi ad esempio for n in numbers e dico che ad esempio print running average due punti virgola gen punto send n si non è numbers ma è numeri quindi uno per volta mando questi questi numeri al mio generatore che mi darà indietro la running average fino a quel momento vediamo se è vero ok sembra di sì al primo giro gli ho mandato solo un numero e quindi la media coincide col numero 4 al secondo giro gli ho mandato 5 quindi la running average tra 4 e 5 è 4,5 e via dicendo dubbi perplessità quindi per come abbiamo definito questo generatore vi faccio ancora notare una volta questa prima next che è necessaria per inizializzare il generatore quindi inizializzare le variabili ed entrare nel ciclo in attesa dei dati veri e propri ok se non ci sono domande trovate comunque tutte le soluzioni online direi che possiamo proseguire con gli ultimi ingredienti della programmazione funzionale in python che vedremo abbiamo visto la volta scorsa gli iteratori le list comprehension i generatori vediamo oggi le built in function che sono delle funzioni di ordine superiore funzioni di ordine superiore è un ingrediente che abbiamo visto anche la volta scorsa che cos'è una funzione di ordine superiore domanda da parte di teoria è una funzione che può ricevere altre funzioni come argomento e o può ritornare altre funzioni come valore di ritorno ok quindi funzioni che si comportano alla stregua di tipi di dato classici quindi python ci mette a disposizione diverse funzioni di ordine superiore già definite con scopi diversi che si possono facilmente riutilizzare e ne vedremo una serie tutte queste funzioni lavorano su degli oggetti iterabili quindi vengono utilizzati praticamente sempre associati a delle sequenze che possono essere liste string eccetera questi sono quelli che vedremo quindi minimax sorted zip map filter partiamo da minimax che direi che sono le più semplici come il nome fa ben capire data una sequenza ci ritornano il valore più piccolo o il valore più grande incluso in queste sequenze quindi facciamo degli esempi supponiamo di avere la nostra solita lista di numeri 1 3 meno 3 4 beh posso dire se voglio calcolare il minimo contenuto in numeri semplicemente min di numeri min di numeri ci ritorna il minimo allo stesso modo posso calcolarmi il massimo 4 si possono applicare queste funzioni a tutte le sequenze quindi anche a una stringa il minimo o il massimo del mio nome il massimo è t il minimo sarà ovviamente a quindi l'ordine alfabetico ok voi mi direte va bene perché è una funzione di ordine superiore beh perché supponiamo di avere una struttura dati una sequenza un po' più complicata non una lista di numeri ma una lista di dizionari in cui ogni dizionario è una persona col suo nome e la sua età ok quindi ad esempio il primo dizionario è relativo a Maria che ha vent'anni virgola poi abbiamo nome Giovanni che ha trent'anni e poi abbiamo che ne so Marta che ha 15 anni dove ho sbagliato dove ho sbagliato aspettate ah no scusate dunque Giovanni vi ricordo che le chiavi di solito sono stringhe e quindi vanno incluse tra gli apici avevo scritto un'età senza senza gli apici ok questa è una è una lista di tre elementi dove ogni elemento è un dizionario ogni dizionario ha due coppie chiave valore la prima è il nome quindi la chiave nome il valore è il nome vero e proprio due stringhe e la seconda coppia è età la chiave stringa è il numero che rappresenta gli anni dell'età ok fin qui tutto chiaro adesso se io dico minimo di numeri è minimo che cosa ci identifica il minimo in questa lista abbiamo varie possibilità direi potremmo avere il minimo in termini di età ma anche il minimo in termini di nomi in ordine alfabetico giusto quindi siamo noi che abbiamo la possibilità di definire un criterio per questo ordinamento e come si definisce questo criterio di ordinamento tramite una funzione una funzione che prenda un elemento singolo di questa sequenza e ritorni il campo su cui fare il nostro ordinamento quindi io posso avere una funzione def no cosa ho fatto ok posso avere una funzione chiamiamola get valore che prende un singolo elemento chiamiamo questo elemento persona perché per noi ogni elemento della nostra lista è una persona quindi prende un dizionario per volta e ci ritorna il campo di quel dizionario su cui vogliamo fare il nostro ordinamento no scusate ordinamento su cui vogliamo calcolare il minimo ok supponiamo di voler calcolare il minimo in termini di età benissimo return persona di età è un dizionario uso la chiave per ottenere il valore quindi questa funzione prenderà ad esempio la prima persona e ci ritornerà 20 ok questo è il blocco principale che noi possiamo poi passare alla funzione di ordine superiore dicendo ok fammi il minimo sui numeri ma come non mi ricordo la sintassi fatemelo andare a vedere sì era giusta ma come criterio utilizza la mia funzione get valore per estrarre il campo su cui fare la tua computazione quindi su cui calcolare il minimo vedete questa funzione min riceve come parametro un'altra funzione quindi una funzione di ordine superiore ovviamente l'abbiamo intravisto la volta scorsa qui non ci sono le parentesi c'è solo il nome perché non la sto invocando sarà poi minimo che al suo interno se la invocherà per conto suo quindi passo solo il nome della funzione e minimo cosa farà prenderà questi numeri uno per volta questi scusate questi dizionari uno per volta li passerà a get valore get valore gli restituirà l'età e lui sarà in grado di calcolare il minimo sull'età c'è un problema ah c'erano c'erano due def ok il minimo è per come abbiamo definito il nostro criterio marta che ha 15 anni funziona ovviamente anche col massimo quindi se cambio in max lui userà questa funzione per recuperare tutte le età e darmi il dizionario con l'età massima Giovanni 30 se cambio idea voglio cambiare il criterio basta che cambio questa funzione al posto di ritornare l'età posso ad esempio ritornare il nome di ogni persona a questo punto il massimo sarà in termini di nome e quindi ci viene restituita marta che è il nome che inizia con la lettera m quindi la lettera più avanti nell'alfabeto quindi quando abbiamo delle strutture dati più complesse abbiamo l'opportunità di definire i nostri criteri per trovare il minimo e il massimo e vabbè questo è quello che abbiamo fatto adesso funziona in modo molto simile come potrete immaginare la funzione sorted che cosa fa la funzione sorted ordina una sequenza e anche qui c'è il problema che se abbiamo una sequenza di numeri è facile capire qual è il criterio di ordinamento se abbiamo una sequenza come quella che abbiamo visto possiamo ordinare sia per nome che per età ad esempio e quindi i concetti che abbiamo visto adesso si applicano anche alla funzione sorted infatti vedete che nel prototipo qui sulla slide abbiamo lo stesso parametro key uguale una funzione che possiamo specificare di noi alcune differenze beh l'ordinamento può essere ascendente o discendente e quindi abbiamo anche un ulteriore parametro reverse possiamo dire true vero o falso se vogliamo l'ordine normale o l'ordine inverso e l'altra differenza fondamentale è che questa funzione sorted ritorna una nuova sequenza quindi non modifica la sequenza originale d'accordo quindi se vogliamo ordinare una lista ad esempio dobbiamo metterla in una nuova variabile se usiamo la funzione sorted per fare l'esempio lasciatemi commentare un attimo questo supponiamo di avere la nostra solita lista di numeri ok se io semplicemente provo a stampare print sorted di numeri anche se a prima vista potrebbe sembrare di ok prendo questi numeri e li ordino in realtà si no così funziona scusate volevo fare questo esempio se provo a fare una cosa del genere cioè applicare la funzione sorted da numeri e poi stampare numeri vedete purtroppo i numeri non sono ordinati proprio perché questa sorted qui non va a modificare numeri ma prende numeri e ci ritorna una nuova lista ordinata quindi se voglio tenerne traccia devo per forza salvarmi il tutto in una nuova variabile numeri ordinati ad esempio a questo punto sorted prende numeri e ci costruisce una nuova lista di numeri ordinati meno 1 1 4 5 6 vedete ordine ascendente di default se vogliamo il contrario aggiungiamo un nuovo parametro reverse uguale true per favore vai al contrario ok 6 5 4 1 meno 1 dicevo se torniamo a una struttura dati più complicata come quella di prima dove ogni elemento è un dizionario anche qui possiamo avere ordinamenti di tipo diverso e anche qui abbiamo l'opportunità di specificare un parametro key che è la funzione che ci definisce il nostro criterio di ordinamento ad esempio vogliamo ordinare le nostre persone per nome la nostra get valore di prima esattamente come prima ci ritorna il nome qui abbiamo lasciato reverse uguale a true e quindi abbiamo Marta Maria Giovanni però funziona esattamente come la min e la max questo questo concetto di funzione di ordine superiore sì ovviamente questi non sono numeri ma persone vabbè ok questo è quello che abbiamo fatto vabbè qui avete uno screenshot preso da python tutor per farvi capire proprio che viene creata una nuova lista ma mi sembra che sia sia chiaro ok quando gli elementi da ordinare sono a loro volta una sequenza ad esempio qui vedete nella nella slide abbiamo una lista di tuple dove ogni tuple è una persona prima prima abbiamo usato un dizionario qui usiamo una tupla e sono solo due modi due strutture dati diverse per raggiungere lo stesso obiettivo in questo caso la sorted se non definiamo nessun criterio di ordinamento usa l'ordine lessicografico cosa vuol dire che scusate che essendo gli elementi stessi una sequenza quindi una tupla la sorted prova prima a ordinare secondo il primo elemento quando trova due elementi uguali vedete abbiamo due tuple che hanno il valore 1 nella prima casella quando trova due valori uguali usa il secondo elemento per ordinare a sua volta gli elementi quindi vedete che 1 Alberto viene prima di 1 Giovanni questo è l'ordine lessicografico ok min max sorted facili ci servono di appoggio per i nostri esercizi se abbiamo bisogno di al volo trovare il minimo il massimo oppure riordinare una sequenza la zip è un po' più sottile però anche questa può venire utile durante i nostri esercizi la zip prende come parametro una serie di sequenze e ritorna un iteratore di tuple dove l'iesima tupla consiste negli iesimi elementi di tutte le sequenze che la zip ha preso come parametri è più facile se facciamo l'esempio secondo me supponiamo di avere tre sequenze la sequenza a una lista di numeri 2 3 5 4 3 7 8 una sequenza b che è una stringa anche le stringhe sono una sequenza e una sequenza c che è una tupla 9 9 0 basta ok che cosa fa la zip la zip ci serve se vogliamo estrarre le colonne di queste sequenze parlo di colonne perché così secondo me è più facile intuire come lavora la zip supponiamo di voler avere da qualche parte una struttura dati che ci tenga traccia delle colonne di queste tre sequenze se le vediamo così quindi un qualcosa che ci raggruppi 2 a 9 3 b 9 5 c 0 ok questo è quello che fa la zip quindi prende queste tre sequenze e mette insieme gli iesimi elementi di ogni sequenza se noi proviamo a stampare print zip di a b c ok ci ritorna un iteratore quindi se vogliamo vederlo a schermo dobbiamo trasformarlo in una lista vi ricordo che gli iteratori sono lezzi pigri cioè ci ritornano un elemento per volta come i generatori abbiamo visto la volta scorsa perché è utile quando ad esempio abbiamo grosse quantità di dati se li vogliamo tutti subito possiamo trasformare in una lista vedete diventa una lista di tuple dove ogni tupla è quella colonna che vi ho fatto vedere quindi questi sono i primi elementi di quelle tre sequenze questi sono i secondi elementi di quelle tre sequenze magari se riesco ad aprire no non riesco più aprire no vabbè ci siamo capiti e quando ci fermiamo quando la sequenza più corta è terminata per come è costruita la zip quando termina la sequenza più corta quindi in questo caso c non andiamo più avanti perché non riusciamo più a costruire una colonna forse colonna non è il termine giusto ma una colonna completa quindi prendiamo 2 a 9 3 b 9 5 c 0 e basta perché c è finita e quindi il resto di a e b lo buttiamo via domande vedremo un esempio di utilizzo a breve la map arriviamo alle funzioni un po' più interessanti la map prende di solito due argomenti una funzione ecco perché è una higher order function e un'iterabile di solito una sequenza e applica la funzione che gli passiamo come argomento ad ogni elemento di quella sequenza ritornando che cosa la nuova sequenza quindi anche qui viene ritornata una nuova sequenza non viene modificata quella originale ok poi vediamo anche l'esempio di una map che riceve più di una sequenza ma supponiamo di avere la nostra solita lista di numeri e voler incrementare di uno ogni elemento di questa lista ok quello che possiamo fare è definirci una funzione che ci dica come fare ad aggiungere uno ad ogni numero e poi applicare questa funzione a tutta la lista tramite la funzione map quindi anche qui divido il problema no un po' come il criterio di ordinamento e min e max di prima ho una funzione che si applica a un singolo elemento ad esempio add uno che prende un numero e mi ritorna il numero più uno ok il task singolo per ogni singolo elemento e poi applico questo questa operazione a tutta la lista come con la map quindi dico map add a alla sequenza a applico add uno anche qui attenzione non ci sono parentesi è solo il nome della funzione sarà poi la map che si preoccuperà di applicarla quindi stiamo dicendo alla nostra funzione le due cose da fare i numeri da prendere e che cosa fare per ogni numero anche la map ritorna un qualcosa e quindi devo prenderlo e salvarmelo in una variabile quindi ad esempio a plus uno uguale map di a ad uno se io ora printo a plus uno che è la mia nuova lista ho invertito i due parametri forse sì allora due cose il primo parametro è la funzione il secondo è la sequenza li avevo invertiti l'altra cosa è che anche la map in generale tutte queste funzioni di ordine superiore ci ritornano sempre un iteratore che possiamo facilmente convertire ad esempio in una lista quindi abbiamo il nostro a che è 2 3 5 4 eccetera il nostro a più 1 è 3 4 6 5 eccetera ok ok questo è quello che abbiamo visto ovviamente noi stiamo vedendo degli ingredienti sparsi per rendere il codice più funzionale ma ci sono n modi di fare le cose e in questo caso specifico c'è un equivalente programma fatto con una list comprehension che forse addirittura abbiamo visto comunque un esercizio simile qual è? senza guardare le slide se volete provare a farlo anche su REPL potete è una list comprehension facilissima che è equivalente al programma che vedete in figura e che abbiamo fatto appena adesso un'esercizio 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 cosa scrivo qua? ok puoi ripetere più forte n più 1 sono d'accordo for n in tu hai detto range perché range? abbiamo già la struttura dati che ci serve la struttura dati da cui prendere i numeri che è a quindi per ogni n in a ne prendo n più 1 facilissimo vedete ci ritorna lo stesso risultato e va bene questo è quello che abbiamo visto facciamo ok come vi dicevo abbiamo visto un esempio dove la map prende come parametro una sequenza in realtà la map accetta anche più di una sequenza quando questo è vero cioè quando alla map passiamo più di una sequenza la funzione che applichiamo avrà ovviamente due parametri supponiamo di avere 1 3 4 5 una sequenza di numeri a e una sequenza di numeri b 2 4 3 basta io posso applicare la mia map a entrambe le sequenze supponiamo di voler fare la somma di questi numeri potrei dire di avere una funzione add che prende due parametri chiamiamoli n1 ed n2 e ne ritorni la somma a plus b che cosa ritorna questa map che a differenza di prima ha una sequenza aggiuntiva come parametro ritorna la somma di 1 più 2 3 più 4 4 più 3 ok il 5 viene scartato perché ovviamente b è più corta e non arriva fino alla fine di a quindi in questo caso possiamo prendere in parallelo i numeri i valori di queste sequenze che passiamo alla map quindi potenzialmente la map accetta anche più di una sequenza anche qui e qui vi voglio c'è un equivalenza con un programma fatto con una list comprehension provate un po' a fare la stessa cosa fatta senza guardare le slide ovviamente fatta qui con una list comprehension vogliamo ottenere una nuova lista che abbia come valori 1 più 2 3 più 4 4 più 3 3 più 4 Grazie. Qualcuno ha qualche idea? Allora, ripeto, che cosa fa questa map è chiaro? Quindi vogliamo ottenere lo stesso comportamento di questo programmino qui con una list comprehension, quindi in una singola riga di codice dentro le parentesi quadre dobbiamo ottenere lo stesso risultato che ci dà questa map. Quindi una lista che contenga 3, 7 e 7. Tu dici N1 più N2, ok? 4, 4, eh? 4, N1, N2, N2. Fin qua ci siamo. Pensate a quello che abbiamo visto oggi, agli ingredienti che abbiamo visto oggi. Ci servono anche qui le colonne, no? Abbiamo visto l'ingrediente che è la funzione che ci permette di fare questo. Ed è la zip. Quindi N1 più N2 sarebbe la mia colonna, se vogliamo continuare a chiamarla così. E per ottenerla posso usare la zip. For. La zip sappiamo che ci ritorna un iteratore di tuple, dove ogni tupla è la mia colonna. Quindi for N1, N2 in zip di A, B. Ok? Quindi c'è il ciclo for che scorre il risultato della zip. Il risultato della zip è un iteratore di tuple. Quindi ogni singolo elemento sarà una tupla, che avrà due elementi, la nostra colonna. E noi questi due elementi poi li andiamo a sommare. 3, 7, 7. Questo poteva essere un altro, come livello di difficoltà, esercizietto della prima parte. Cioè vi do un programma scritto con una map o in versione imperativa e vi chiedo di tradurlo in una list comprehension. La differenza è che nella prima parte non avete accesso al pc, non avete accesso a nulla e quindi dovete ricordarvi come si fa. Va bene. No, vi propongo di finire la parte teorica così poi ci concentriamo su esercizi e laboratorio, tanto manca poco. Il penultimo elemento è la filter. Anche qui, come per la map, due argomenti. Una funzione e un iterabile. Iterabile che può essere o una singola sequenza o più di una sequenza, come per la map. E qui la filter costruisce una nuova sequenza, a partire dagli elementi della sequenza passata come parametro, prendendo solo quegli elementi per cui la funzione ritorna vero. Come dice il nome è un filtraggio, quindi mentre la map costruiva una nuova sequenza lunga quanto quella originale, ma dove gli elementi erano modificati secondo la funzione, qui invece prendiamo una sequenza e la filtriamo andando a prendere solo quegli elementi che rispettano una determinata condizione, condizione che è inclusa in questa funzione, che noi gli passiamo come parametro. Vabbè, se la funzione non è specificata, la filter ritorna, è la funzione identità. In sostanza vengono ritornati, filtrati, tutti gli elementi che sono truti. Quindi, se a una filter noi passiamo una sequenza di numeri che contiene ad esempio dei numeri maggiori di 0 e degli 0, se noi passiamo questa sequenza a una filter senza specificargli nessuna funzione, in automatico il risultato è la lista senza gli 0, che sono i valori che vengono valutati come falsi. Ma vediamo l'esempio classico, che è questo qui. Supponiamo di avere una lista di numeri sia positivi che negativi. Quindi 2, 4, meno 1, 4, meno 10, meno 20. Noi potremmo volere la lista dei numeri positivi inclusi in numeri. Quindi filtrare via i numeri negativi. Anche qui il concetto è sempre uguale. Definisco prima la funzione che fa il singolo step. Quindi dato un singolo numero mi dice, in questo caso, vero o falso. Lo prendo o non lo prendo. In questo caso, def positivo, ad esempio, lo possiamo chiamare così. Prendiamo un numero per volta e diciamo, If n maggiore di 0, return true. Else, supponiamo di voler tagliare via anche gli zeri. Return false. Singolo numero, ti dico se prenderlo o non prenderlo, secondo il criterio che mi serve. E poi questa cosa qui, che si applica ad ogni singolo numero, lo faccio applicare dalla filter a tutti i numeri. Come numeri, chiamiamolo maggiori, no, numeri 2, uguale, filter, la mia funzione, positivo, di nuovo senza parentesi, e applico questa funzione a tutti i miei numeri. Quindi partiremo dal 2, il 2 verrà passato a questa funzione, 2 maggiore di 0, return true. Lo prendo. Passo il 4, idem. Passo il meno 1, return false, non lo prendo. Se ora stampiamo numeri 2, Anche qui è un iteratore, quindi prima di stamparlo conviene tradurlo ad esempio in una lista E abbiamo solo i numeri positivi Se vogliamo ridurre ancora di più le linee di codice, questa if else può essere anche solo condensata in una return n maggiore di 0 E' chiaro come ho fatto a tradurre quelle quattro linee di codice in questa singola linea di codice? Scritta così, questo vuol dire valuto questa condizione e la ritorno Il valutare questa condizione vuol dire dire vero o falso se n è maggiore di 0 Va bene entrambe le soluzioni Ovviamente penso sia chiaro ma Se ritorniamo alla versione precedente dove avevamo strutture dati più complicate Tutto continua a funzionare Nel senso che Supponiamo di avere la nostra lista di persone Nome E poi magari Nome Marta Eta 15 Dovrò solamente fare del lavoro in più nella mia funzione che passerò alla filter Supponiamo di voler estrarre qui i maggiorenni ad esempio Allora potrei pensare di avere una funzione maggiorenne che data una persona Che cosa fa ci dice se la sua età è maggiore o uguale di 18 E vabbè allora potrò dire return persona di età maggiore di 18 O se volete la if else scritta per lungo di prima è uguale A questo punto i miei maggiorenni saranno filter qual è la funzione da adottare maggiorenne su chi sulle mie persone Vedete che qui lo step in più è andare a prendere l'elemento che ci serve Perché ogni elemento non è un tipo di dato primitivo ma è un dizionario e quindi vado a usare la chiave per prendermi il dato che mi serve Però i concetti sono gli stessi ovviamente Ok questo l'abbiamo fatto Qual è la versione equivalente con la list comprehension Ora qui dovrebbe essere più chiaro è abbastanza facile anche questa Per i numeri positivi E' una filter quindi a differenza di prima dove prendevamo tutto Qui ci sarà Ah si la schermo scusate A differenza di prima dove prendevamo tutto Qui filtriamo Quindi ci sarà una cosa aggiuntiva che sarà la La if Quindi banalmente x for x in numbers Quindi non modifichiamo più Il valore Prima c'era n più 1 Qui prendiamo il valore Ma lo prendiamo solo se x è maggiore di 0 Sì Ultimo Ultimo Ingrediente Le lambda expression Allora quando scriviamo programmi In modo funzionale ve ne sarete accorti Facciamo largo uso di piccole funzioni scritte Che fanno veramente Magari anche solo un controllino su un singolo elemento Abbiamo visto l'esempio adesso Dei numeri maggiori di 0 Abbiamo una funzione veramente minuscola Che prende un numero e ritorna vero o falso Se è maggiore di 0 oppure no Oppure la funzione di prima Prendiamo un numero e lo incrementiamo di 1 Va benissimo Mettersi lì e scriversi a mano Sempre queste funzioni Def Funzione Parametro Eccetera I programmatori spesso preferiscono Usare queste lambda expression Per definirsi al volo queste funzioni Senza dover per forza ad esempio dare un nome a queste funzioni Quindi le lambda expression sono un modo di scrivere Piccole funzioni Che prendono in input un numero di parametri Un'espressione Li combinano e ritornano un risultato In modo anonimo Senza per forza la necessità di avere un nome Una def Eccetera Facciamo l'esempio Torniamo ai numeri positivi Ok Al posto di avere Di dover definire La funzione in questo modo Noi potremmo Definire una lambda expression Che si definisce in questo modo La parolina chiave è lambda Ok Questa ci va sempre Poi Il parametro Su cui vogliamo Eseguire i nostri calcoli In questo caso L'abbiamo chiamato n Nella funzione Possiamo chiamarlo n Anche qui Due punti E poi qui possiamo avere O un'operazione Nel caso di prima Avremmo fatto n più 1 Ecco facciamo prima l'esempio Della Della map Torniamo al caso in cui vogliamo Incrementare di 1 Tutti gli elementi della sequenza Allora noi Al posto di definirci Def Add Add 1 Parametro Eccetera Lo definiamo in questo modo Senza dare un nome Ma scrivendo Lambda Il parametro n Quindi In automatico La map In questa n Andrà a metterci Un numero per volta Due punti Quello che vogliamo fare Su ogni singolo n N più 1 Ok Quindi vedete Non c'è più Il nome della funzione Non c'è più la return Abbiamo I parametri A sinistra Del due punti E un'espressione Che viene ritornata A destra Del due punti Questo è abbastanza intuitivo Per la map Un po' meno per la filter Supponiamo di voler Filtrare i numeri negativi A me qua Verrebbe da dire Return Return qualcosa In realtà Nelle lambda expression Non si mette la return Ma si mette direttamente La condizione Da verificarsi E quindi posso Semplicemente inserire N maggiore di 0 La return è implicita Ecco Quindi questa espressione Viene valutata Nel caso di prima C'era una più E quindi veniva Incrementato il numero Qui è un'espressione Che può essere valutata In un contesto booleano E quindi in automatico Ritorniamo vero o falso Se questa condizione È verificata Oppure no Ok Ci avanziamo Di dover Trovare un nome Tutte le volte Per le nostre funzioni Doverla scrivere In modo più lungo Ovviamente L'espressività Di questo Ingrediente È limitato Se abbiamo bisogno Di funzioni Più complicate Magari non riusciamo A tradurla In una lambda expression Va bene Proprio in questi casi Dove le funzioni Sono molto limitate Ok Direi che possiamo fare Un esercizio insieme Lo risolviamo Pausa E poi Magari un altro esercizio Più laboratorio Vi propongo Vi propongo di partire Da questo Vediamo se lo trovo Eccolo qui Qualche slide Prima Slide 57 Data una lista Di parole Scrivere un programma Che crei E stampi Una lista Di interi Che rappresentano La lunghezza Delle corrispondenti parole Cioè se la mia lista Di parole Ciao a tutti Dovrò avere una lista Di interi Lunga 3 In cui il primo elemento È la lunghezza di ciao Il secondo elemento È la lunghezza di a Quindi 1 E il terzo elemento È la lunghezza di tutti Ok Vi propongo di farlo In tre modi Il primo Usando un for loop Quindi Modalità Imperativa Il secondo Usando la funzione Map Che abbiamo visto E il terzo Usando una list Comprehension Ok Vi lascio un quarto d'ora 20 minuti Poi vediamo se fare la pausa O risolverlo Prima della pausa Ok Allora Vediamo brevemente insieme La soluzione Qualcuno è già arrivato alla fine Qualcuno no Non importa Definiamoci tre funzioni diverse Così usiamo anche le funzioni Cosa buona e giusta Quindi Partiamo dalla versione Imperativa Mi definisco una funzione Che chiamo Len Imperativa Riceveremo come parametro Dall'esterno Direi La nostra lista di parole No Quindi parole Allora Versione imperativa Beh Solito pattern Mi definisco Una lista vuota E man mano La costruisco Quindi Mi definisco Una lista Chiamiamola Lunghezze Vuota E poi Per ogni parola In parole Vado ad aggiungere A lunghezze La Len Di quella parola Quindi direi Che avrò Un ciclo for P In parole E per ogni P Dico Lunghezze Punto Append Che cosa? La lunghezza Di quella parola E quindi Len Di P Ok E dall'esterno Potrò Richiamarla Passando Una lista Di parole Quindi Supponiamo Di fare La print Di Len Imperativa Passando Come Parametro Vabbè La solita Ciao a tutti Ciao Virgola A Virgola Tutti L'ho già divisa io In In lista Questa Questa frase Non importa Potete anche definire Una stringa E poi dividerla Con lo split Ops Qual è il problema? Ah Cosa ho dimenticato? Costruisco Questa nuova lista E poi dovrò In qualche modo Ritornarla Altrimenti La print Non stampa niente 415 E va bene Proviamo la versione Con la map Def Len Map Riceverò Come sempre Come parametro La mia lista Cosa faccio? Beh Abbiamo detto La map Ci costruisce Una nuova lista Quindi dovremmo Sicuramente Fare una return Anche qui Abbiamo la map Che serve Proprio Ad applicare Un qualcosa Ad ogni elemento Di una determinata Sequenza Quindi qui Per ogni elemento Di questa sequenza Vogliamo estrarne La lunghezza Allora Io potrei avere Da qualche parte Il mio Step Di base Quindi Che cosa voglio fare Con ogni singolo elemento Quindi una funzione Che chiamo Def Lunghezza Riceve una parola Per volta E Ne ritorna Semplicemente La Sua Len Giusto? E quindi io applico Questa funzione Lunghezza A tutti gli elementi Di parole Ok? Ora La funzione Lunghezza Che mi sono Definita Potrei Innanzitutto Definirla come Una lambda expression Qua dentro Ma in questo caso È talmente semplice Che si riduce A richiamare Un'altra funzione No? Fa solo quello E quindi Perché non usare Direttamente Quella funzione lì? Quindi al posto Di definirmene Una io Io direttamente Posso usare La funzione Predefinita Len Ok? Inserendone Il nome Senza le parentesi Vediamo se Otteniamo Lo stesso risultato Copio Incollo Cambiando Solo qui Len Map Solita Storia È un Iteratore Quello che ci viene Ritornato Dalla map E quindi Ad esempio Prima di ritornarlo Posso convertirlo Return List Di map 415 Perfetto Ci rimane La versione Con la list Comprehension E quindi Definisco Un'ulteriore funzione Che chiamo Len Comprehension Riceverò Le mie parole E qui Molto facile Anche in questo caso Return La mia Comprehension Quindi le due parentesi Graffe Voglio prendere La len Di una parola Len P Per ogni P In Parole Facilissimo Giusto Prendo la len Per ogni P In parole Proviamo a stampare Anche questa Len Comprehension E vediamo Che ci dà Lo stesso Risultato Va bene Direi che possiamo fare 15 minuti di pausa Circa E poi Riprendiamo Con Un ultimo esercizio Fatto insieme Più Il Il Laboratorio Allora Vi propongo Di Aspettate Vi propongo Di Risolvere Ancora Questo esercizio Prima del Laboratorio Sulle Lambda Expression E Sulla Filter Quindi L'esercizio Vi chiede Di utilizzare La funzione Filter Associata A una Lambda Expression Per definire Una funzione Che qui ho chiamato In questo modo Ma potete chiamare Come volete Che in sostanza Prende di nuovo Una lista di parole Come quella di prima Ma anche un secondo parametro Un intero N Questa funzione Deve ritornare La lista di parole Contenute nella sequenza Passata come parametro Che sono più lunghe Di N Quindi un'operazione Di filtraggio Con la funzione Built-in Filter Associata a una Lambda Expression Cioè per definire Il singolo step Il singolo filtraggio Su ogni singolo elemento Non definite Una Vostra funzione Con la depth Ma usate una Lambda expression Direttamente Nella Nella filter Ok E' abbastanza breve Quindi 10 minuti Dovrebbero essere Sufficienti E poi lo Proviamo a vederlo insieme Allora Qualcuno ce l'ha fatta? Allora Cosa chiedeva Questo Questo programma? Data una lista di parole Di nuovo Cambiamola Lista Definiamoci Qualche Qualche parola A caso Ciao Tutto Bene E poi Volevo anche Scrivere Qualche parola Lunga Andiamo A Al Cinema Va bene Parole a caso L'obiettivo Era avere Una Funzione Vabbè Ho usato il nome Filter Long words Ma possiamo Chiamarla In qualunque Modo Una nostra Funzione Che applicasse Appunto La funzione Built-in Filter In modo tale Da Su due cose Sulla lista E su un parametro N In modo tale Da avere Tutte le parole Più Lunghe o Più corte Più lunghe Più lunghe Di N Correggetemi Se sbaglio Scusami Scusami Quindi Da qualche parte All'inizio Del programma Ci definiamo La nostra Funzione Di nuovo Possiamo chiamarla Come vogliamo Per essere Coerente Con l'esercizio La chiamiamo Filter Long Words Questa Nostra Funzione Riceverà Due cose Abbiamo detto La nostra Lista Di parole Di nuovo Posso usare Lo stesso Nome Posso usare Un nome Diverso Fa lo stesso Usiamo Un nome Diverso Le parole E un Valore N Valore Ok Che cosa fa Questa nostra Funzione Ci ritorna Una lista Filtrata La filtriamo Come Con la funzione Built-in Filter Allora La filter Ci costruisce Già una Nuova lista Quindi Dovremmo Poi Ritornarla Return Filter Di che cosa Allora Due parametri A destra Della virgola Avremo la nostra Sequenza originale Quindi la nostra Parole In questo caso Quello che riceviamo Qui A sinistra Della virgola Abbiamo due Possibilità O ci andiamo A definire Fuori Una ulteriore Funzione Che Ci definisca Che cosa fare Su ogni singola Parola Anzi Più che Che cosa fare In questo caso Se prendere O no Ogni singola Parola Quindi Vero o falso La prendo O non la prendo Oppure Possiamo fare Questa cosa Direttamente Qua Con una Lambda Expression Ed è proprio Quello che ci chiedeva L'esercizio Quindi proviamo A definire Questo concetto Di prendere O non prendere Ogni singolo Elemento Direttamente Qui Allora Lambda Expression Quindi parolina Chiave Lambda Poi Prima dei due punti L'elemento Che prendiamo Il parametro Chiamiamolo P Quindi la singola Parola La prendo Se la sua lunghezza È maggiore Di n Abbiamo detto Prima In una Lambda Expression Non mettiamo Esplicitamente La return Ma possiamo Mettere Un'espressione Che viene Valutata In un contesto Booleano E quindi Questa espressione Verrà valutata E ritornata Vero o falso A seconda Se sia appunto Vera o falsa E quindi qui Possiamo controllare L'n Di p Vogliamo Prendere La parola Se è maggiore Del valore numerico N Quindi Questa espressione Qui ritornerà Vero Se la lunghezza Di p Quindi di ogni Singola parola È maggiore Di n Sarà poi Questa funzione Filter Che in automatico Gratis Andrà a mettere In p Ogni volta Un valore Diverso Uno per volta Della nostra Lista Ovviamente Internamente Avrà un ciclo For Che farà Questo mestiere Qui Ma noi Non ci preoccupiamo Troppo dei dettagli Implementativi Sappiamo che Lavora In questo modo Sì La else Non serve Perché questa È una Espressione Che può Essere O vera O falsa E quindi A seconda Che sia vera O falsa Questo è il valore Che verrà Ritornato È la versione Compatta Che abbiamo Fatto Prima Della If Else Ovviamente In una Lambda Expression Dobbiamo Usare Questa Versione Compatta A questo punto Abbiamo tutto Quello Che ci serve Possiamo Richiamare La nostra Filter Long Words E magari Stamparla Direttamente Print Filter Long Words Di Lista Virgola Boh Tre Vogliamo Tutte le parole Più grandi Di tre Più lunghe Di tre È sempre Una filter Quindi se vogliamo Tutti i dati In un colpo Solo Traduciamo In una Lista Possiamo Farlo O qua Direttamente Nella funzione O qua Prima di Stampare È uguale Proviamo Un po' E infatti Ci ha Tagliato Via La Questa Parolina Qua Se proviamo A incrementare Il tre Mettiamo Sei Vediamo Che c'è Solo Una parola Più lunga Di sei Caratteri D'accordo? Va bene Direi che abbiamo Sufficiente Tempo Per l'ultimo Laboratorio In cui potete Lavorare Individualmente A gruppi Con il mio Aiuto Se vi Serve Lo trovate Sul sito Del corso Python Functional Lab 2 Vediamolo un attimo Insieme Ci sono Tre Esercizi Il primo Il primo Sulla Sulla Mapp Lambda Expression Simile a Questo Ma Non sulla Filter Ma sulla Map Il secondo È Sulla Sorted Ovviamente Qui la Complicazione Sta nel Fatto che La struttura Dati Da ordinare È un po' Più complessa Non è una Lista di Numeri Ma è una Lista Di Tuple E l'ultimo Invece Vi richiede Di Riprendere In mano Un attimo Il L'esercizio Del To do Manager In particolare La La versione Quella Con i dizionari Non con i file In ogni caso Potete Benissimo Partire Dalla versione Che avete Del vostro To do Manager Anche quella Con i file Non importa Quale Prendete E Vi è richiesto Di trasformare Il vostro Codice Nel modo Più funzionale Possibile Quindi abbiamo Visto Quell'esercizio Prima di affrontare Questa parte Qui Quindi le Funzioni Che avete Scritto Fatto Saranno Presumibilmente Tutte fatte In versione Imperativa Ad esempio La ricerca Di un task Fatta con un Ciclo for Blah 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 Cercate di Trasformare Tutto il programma Le vostre Funzioni Utilizzando Gli ingredienti Che Che abbiamo Visto Ok Niente Questo è Il L'esercizio Vi propone Anche di fare Delle cose Aggiuntive Ad esempio Di filtrare I task Per anno Volendo Potete partire Dalla vostra Versione E aggiungere Una voce Di menu Con questa Operazione Qua Da fare Però Vi consiglio Di partire Da quello Che c'è Trasformarlo Nel modo Più funzionale Possibile E poi Eventualmente Aggiungere Le operazioni Aggiuntive Che trovate Qui Ok Dimmi Per Una cosa Sì Ok Allora È una cosa Che secondo te Interessa a tutti O Vabbè Vengo Vengo a vedere Ok Buon lavoro Grazie a tutti Grazie.